Animato dalla politica del fare, ha diversificato la sua linea imprenditoriale puntando sugli sport locali. Un investimento non indifferente che consentirà a breve di rilanciare l'abbandonato palla di vatino con l'avvenuta giudicazione del bando di affidamento del palazzetto dello sport provinciale e confermare il suo apporto a società di pallavolo, calcio, special Olympics e gli atleti della Gymnastic Club di Walter Micicè. Proprio quest'ultimi ieri hanno ricevuto da Maurizio Melfa attrezzature indispensabili a migliorare la didattica e la tecnica. Quasi un regalo per i vent'anni di attività caratterizzata da molti successi che proseguono con la stagione agonistica 2020. Sul parchè di Raguse infatti è stato un esordio scoppiettante con la vittoria di tre fasce d'oro e una d'argento conquistate domenica scorsa dalle bimbe dalle calze rosse. Ah, questa è una delle cose bellissime perché se siamo riusciti in qualche modo in quest'ultimo ventennio a realizzare quello che tutt'oggi insomma fa la storia dello sport gelese sicuramente grazie ad una persona come Maurizio Melfa, imprenditore locale con la sensibilità, dico sempre, verso i giovani probabilmente otterremo di più. Queste attrezzature che ha donato all'associazione servono esclusivamente per migliorare la didattica e la tecnica degli esercizi che i ginnasti in qualche modo realizzano in palestra ogni giorno. Il leader della Melfa, si impresa che con Elio Melfa ha portato il metano in Sicilia contrappone la sua azione alla logica del non fare annunciando importanti sviluppi e investimenti in favore dell'economia sportiva locale. Quello che noto è che si è affermata troppo spesso una paura del fare. il funzionario, il rappresentante dell'autorità pubblica è spesso impaurito dal fare, dal prendere delle decisioni e questo è un gravissimo problema perché il risultato di tutto ciò è la devastazione io la definisco sociale ma anche economica. Melfa è consapevole dell'importanza della fruizione delle strutture sportive a supporto delle società con uno sguardo interessato ad eventi capaci di alimentare l'economia sportiva. Se noi lasciamo chiuso il palalivatino, se non diamo alle società sportive la possibilità di allenarsi, di organizzare eventi se non apriamo i palazzetti, se non apriamo lo stadio, creiamo una devastazione sociale ed economica quindi l'invito è meno burocrazia e più fare. Il conto alla rovescia per riaprire il palalivatino è iniziato. Abbiamo ottenuto l'assegnazione provvisoria e ovviamente ci sono le pratiche di rito per ottenere l'assegnazione definitiva e quindi la tempistica ovviamente è subordinata ai tempi burocratici ma immagino che la provincia sta lavorando abbastanza lacrimente quindi immagino che non passeranno tempi lunghi per poter cominciare a mettere mano e sarà previsto un piano di investimenti con i quali appunto riusciremo a dare, a restituire come dicevo prima alla città questa bellissima struttura. Secondo Melfa, Gela è diventata la città degli impianti sportivi chiusi dallo stadio ai campi di calcetto, passando per il cartodromo e i due palazzetti dello sport l'imprenditore Maurizio Melfa farà leva anche sull'esperienza maturata da amministratore comunale. Grazie Maurizio!